Allora Alessandro, io direi che possiamo cominciare, poi piano piano le persone comunque arrivano, si possono mettere comodi in questa nuova aula virtuale del laboratorio aperto. Allora, siccome ci sono molte persone nuove a questo progetto, a questa nuova aula virtuale del laboratorio, ho due parole per presentare questo progetto, è un progetto regionale della regione Emilia-Romagna, dedicato alla diffusione della cultura digitale. A Ravenna abbiamo due sedi fisiche, siamo al Mar, Museo Mar e Museo Classis, perché noi ci muoviamo attorno a quella che è la valorizzazione turistica del territorio, attraverso quelle che sono le nuove competenze digitali, il mondo dell'industria culturale e creativa ha fatto parte e fa parte del nostro percorso di formazione che offriamo gratuitamente, insieme a questi approfondimenti come questo insieme ad Alessandro dedicato alla Visual Science. Oggi siamo qui insieme ad Alessandro perché abbiamo pensato di proporre, di presentare questo metodo ideato da Alessandro che con il suo primo libro, che vi faccio vedere qui, La via del disegno brutto, ha sistematizzato il suo approccio al mondo del disegno. Alessandro è un designer che ha condotto più di 90 workshop per riappropriarci, per guidarci a rinnamorarci di nuovo dell'arte del disegno e riportarla nella nostra vita quotidiana. E con questo suo secondo libro ha cercato di spiegarci come in realtà l'arte del disegno non è proprio esclusamente un'arte, se come la intendiamo o no nel senso comune, ma è uno strumento del pensiero e della creatività che ci può aiutare a rendere più snelli, più semplici i processi. Adesso ci facciamo raccontare da Alessandro come nasce questo tuo approccio e come può esserci utile nella vita quotidiana e tutti i giorni. Ok, intanto buonasera a tutti e ringrazio insomma le persone che ci sono, che ci stanno seguendo, tra l'altro vedo così velocemente che alcune le conosco, quindi saluto più caldamente insomma e ringrazio per questa partecipazione. Sì, il ragionamento sul disegno è abbastanza, da una parte è vasto, dall'altra si riduce poi a una cosa sola che è farlo, praticare. Ma l'idea iniziale parte tutta dal fatto che la maggior parte delle persone non disegna, proprio una cosa di osservazione abbastanza sciocca, nel senso che tu guardi i bambini disegnano e poi gli adulti non disegnano, o comunque tutti i bambini disegnano, la maggior parte gli adulti no. E quindi ti chiedi cos'è successo nel frattempo e scopri un sacco di cose che la scuola ci ha insegnato ad usare il disegno solo per diventare geometri o per diventare artisti, che quindi nel mezzo ci stiamo praticamente tutti, tra i geometri e gli artisti, in questa forbice. E dall'altra ti rendi conto come il disegno ci sia un po' da sempre, comunque che sia una cosa che ha sempre accompagnato l'essere umano. Non dico che è quasi come il pollice opponibile, però insomma sicuramente è possibile anche grazie al pollice opponibile. Però l'esigenza di tracciare segni, segni significativi, è una cosa che facciamo da sempre. Quindi nasce proprio da un chiedersi perché se lo facciamo da sempre adesso lo facciamo più, perché se lo facciamo da bambini adesso non lo facciamo più. E studiando, osservando, sperimentando, vengono fuori un sacco di cose interessanti e scopri insomma che se smonti certi incondenzionamenti il disegno può tornare in qualche modo a fluire nella vita di ognuno e apre un sacco di possibilità. Sì, in entrambi i libri tu ci spieghi come in realtà il disegno, come lo intendiamo noi, ci priviamo di una serie di sue potenzialità di quello che può essere uno strumento dell'immaginazione e della creatività. Perché noi lo immaginiamo quando passiamo al disegno e pensiamo all'arte più artistica e quindi di rappresentazione della realtà, ma molti scienziati che citiate nel tuo ultimo libro l'hanno proprio usato, il disegno, come uno strumento di osservazione ti permette di acchiappare il pensiero, di rappresentarlo, fissarlo in qualche modo in un punto che può essere un foglio, può essere la lavagna, di osservarlo quindi nelle sue tridimensionalità. Quindi ci sono... Galileo era un artista, un appassionato d'arte... Sì, beh, lì quando appunto preparavo il libro questo Lavorare meglio disegnando male, dovendo anche andare a parlare a un pubblico, diciamo, di aziende, quindi di persone di San Tommaso, che non credono nel potere del disegno, che non è che poi devi portare dei dati certi. E una delle cose è di andare a vedere effettivamente come il disegno abbia sempre accompagnato lo sviluppo della conoscenza umana. E se, diciamo, fino alle antiche civiltà così, è un pochino misterioso il suo uso, nel senso che non si capisce esattamente lo scopo, se è uno scopo, che ne so, addivinatorio, di diffusione della conoscenza, di approfondimento, insomma, abbiamo un modo di pensare leggermente diverso da quello che avevamo 3.000 anni fa. Però nella storia invece del pensiero, chiamiamolo moderno, comunque dal Medioevo in poi, il disegno compare spesso e compare soprattutto visto anche per andare giù dritti, in questo che è l'incontro di stasera, nella ricerca della conoscenza. Quindi i pensatori, molti pensatori, che all'epoca non si chiamavano ancora scienziati, comunque non erano più, insomma c'era questa combinazione di filosofia, scienza, tutta la conoscenza del mondo passava tutta poi dalla speculazione, dal pensiero, e usavano il disegno. Spesso ne è arrivato poco a noi, o comunque adesso viene riscoperto, però per dire i mistici, alle volte ci sono delle tracce, insomma disegnavano. Un filosofo, ad esempio, che usava molto il disegno e i diagrammi era Giordano Bruno, usava tantissimi diagrammi per cercare di spiegare le sue cose, senza poi andare troppo indietro, insomma andare a vedere la conoscenza del mondo fatta attraverso che ne sono la rappresentazione delle costellazioni o di un sacco di cose. E a me piace mettere come, ho trovato come punto di svolta, diciamo, che è un punto di svolta del pensiero scientifico moderno, però lo è anche del disegnare in un certo modo, che è Galileo, Galileo Galilei, lo chiamo Galileo perché sono di Pisa, quindi mi sento in qualche modo una vicinanza, perché faceva parte delle storie, poi, degli aneddoti che gli anziani, quindi i miei zii, i nonni, insomma, quando mi portavano in giro per Pisa, che ne so quando andavi al Duomo, ti facevano immaginare proprio lui che sotto con la folla faceva gli esperimenti, no, oppure il pendolo, tutto, quindi era, in qualche modo era viva la presenza di Galileo, cioè la casa dove è cresciuto, no, fino a che non è andata a Padova. E quindi avevo, sapevo che lui dipingeva, era una querellista, cioè era uno, scusate, una querellista, era un, cercava di fare dei dipinti, insomma, di ciò che vedeva, un paesaggista, in qualche modo, e scriveva bene, quindi era una persona che sapeva fare molte cose, no, e tra l'altro aveva provato ad andare all'Accademia dei Buontalenti, quindi aveva provato ad andare a Firenze a fare l'Accademia. E questa sua capacità di disegnare lo aiuta tantissimo, un po' nell'osservazione, perché quando osserva la luna, vuol dire l'uno non è il primo che dice che la luna è solida, che è fatta in un certo modo, diciamo, una voce che girava già dall'antica Grecia, non è che... però è il primo che, osservando la luna in un certo modo, che ne so, capisce che le ombre sono dovute, sapendo disegnare, sono dovute a un, che ne so, delle asperità, delle cose alte che proiettano la luce del sole, quindi proiettano un'ombra, e quindi si mette a disegnarlo. E i disegni che fa Galileo per il Siderius Nuncius sono bellissimi, sono potentissimi, nonostante siano sbagliati, perché poi molte dei crateri, delle posizioni che lui mette della luna sono sbagliate, poi insomma con le osservazioni più raffinate si è capito, insomma, che ha fatto degli errori. Però sono potentissime, e il Siderius Nuncius, quindi, si compone di questi testi, e poi di queste stelle, tra l'altro ci sono tutte queste stelle sparse, che vengono sparse sui fogli, e queste lune che sono potentissime, lì rappresenta proprio il punto di svolta, cioè attraverso il disegno la conoscenza fa un salto enorme. E andando a vedere, quindi da Galileo in poi, sono andato a vedere, a cercare anche altre cose, altri pensatori, anche più moderni, ovviamente fino ad arrivare a Novecento, e ce ne sono tanti. Appunto, bisogna un pochino cercarsele, però ne ho trovati, nel libro ho messo, ho trovato i quadri di appunti di Marie Curie, e poi, ne pareremo dopo, insomma, c'è Watson con il DNA, o la struttura dell'atomo, c'è Freud che cerca di rappresentare graficamente tutta la struttura dell'inconscio, e poi tantissimi, non tantissimi altri, però molti altri. Ad esempio, ho cercato per mesi cose di Einstein e non trovavo, e Einstein faceva un po' quella cosa che dicevi tu. Adesso mi sono un pochino dilungato, però, Einstein faceva evidentemente una, almeno così scrive nei suoi diari, e siccome ci sono pochissime tracce di disegni di Einstein, ci sono dei disegnini ogni tanto, così, abbastanza divertenti, non certo che rappresentino ciò che lui andava a conoscere. E quello che faceva Einstein era una cosa di una concentrazione estrema, comunque di un modo di ragionare, che è il tipico avere la testa tra le nuvole. Cioè, lui si metteva in uno stato quasi meditativo, perché riusciva a immaginare quello che voleva. La sua immaginazione era una cosa, cioè, era, vuole dire, pensare, che ne so, il tessuto dello spazio-tempo, o le cose del genere. Sei vicino proprio alla materia del sogno. Cioè, la maggior parte delle persone, in quel momento, non ci crede che le cose siano fatte così. Quindi tu, scienziato, rivoluzionario, ti immagini delle cose che gli altri non credono vere. E lui riusciva, evidentemente, con degli sforzi di concentrazione, oppure anche senza sforzi, non so questo, però vedeva, aveva questi modelli mentali, riusciva a ragionare senza disegnare, senza doverli mettere giù. Riusciva, in qualche modo, a crearsi questi modelli con cui giocava nella mente, che poi tutte le ritornavano in sogno, insomma. C'è un po' nell'etratura scientifica questa cosa di molte anche scoperte intuizioni che arrivano in sogno, no? E sono dovute al fatto che si coltiva questo pensiero visivo, cioè si nutre questa capacità che abbiamo di immaginare, cioè di creare immagini nella mente. Ok, noi tuttora continuiamo a immaginare e la nostra mente ragiona più per immagine che per parole. ma la domanda sorge un po' anche un po' provocatoria, un po' spontanea, perché siamo nell'era della transizione digitale in cui abbiamo un sacco di grafici professionisti. Allora, perché dovremmo imparare a riportare il disegno all'interno del nostro lavoro? E com'è il disegno che tu promuovi? Perché non è proprio un disegno estetico, rendi proprio una tecnica strumento della mente, del pensiero non solo logico, cioè ti permette di unire la parte creativa con la parte razionale, non dare più una sorta di divisione netta al funzionamento della nostra mente, no? Sì, allora, il ragionamento sul disegno è questo, che uno dei motivi per cui le persone non disegnano è perché pensano che sia una tecnica, diciamo un modo per rappresentare la realtà, o che sia un fatto artistico, e quindi di conseguenza un fatto di talento, ah io non ho talento, io non ho creatività, io non ho, e così via, c'è tutto un ragionamento su quello che uno non ha, e quindi c'è una frustrazione legata al disegno perché ci viene giudicato come materia, per dire la scrittura o il parlare, non vengono giudicati come materia, ma c'è gente che parla malissimo, che scrive malissimo e continua a farlo, e che smette. È vero che la parola parlata e scritta ovviamente sono fondamentali in un modo per la comunicazione, insomma, per stare nella società, però il disegno lo è stato altrettanto, e lo è. Allora l'idea è dire, ok, il disegno non è un fatto artistico, cioè un po' come dire camminare e ballare, no? Sì, camminare, però non è un fatto artistico, cioè tu ti scammina, c'è chi cammina bene, chi cammina male, chi cammina storto, chi cammina dritto, però è propedeutico ovviamente alla danza, il camminare, però non è che quelli che non danzano non possono camminare, il disegno è un po' la stessa cosa. Innanzitutto non è uno strumento adatto a rappresentare la realtà, perché è fatto di punti, di disegni, per cui ha proprio una difficoltà rappresentativa notevole, non è come la pittura che è in grado in qualche modo di dare l'illusione della percezione della realtà, insomma, quindi di ciò che vediamo. Quindi già quello andrebbe tolto solo per quello il disegno. E d'altra parte non è propedeutico alla pittura, cioè è propedeutico alla pittura come propedeutico a un sacco di altre cose, cioè, che ne so, all'architettura, alla scrittura, perché quando scriviamo stiamo disegnando, perché stiamo usando dei simboli, tra l'altro molto complessi, che hanno sulle spalle l'ultimo migliaia di anni, e che sono disegni in qualche modo, quindi quando scriviamo già disegniamo, e così via. Quindi l'idea è, se il disegno è un fatto artistico, allora cos'è? Il che apre tutta anche una riflessione sul fatto se sarà sempre stato un fatto artistico o no. Cioè, visto che le prime tracce di disegno risalgono, se queste pietre trovate in Sudafrica sono incise in modo intenzionale, ovviamente risalgono a centomila anni fa, poi ci sono esempi di sessantamila, di trentamila, e non sempre per rappresentare la realtà. Quindi uno dice, ma se non serviva a rappresentare la realtà, se non era un fatto artistico, cos'era il disegno? E togliendo questo appunto aspetto artistico, estetico, si scopre che in realtà il disegno serve a un sacco di cose. E quello che a me preme molto è il fatto che supporta il pensiero, nel senso che da una parte, come anticipavi tu, riesci a fissare delle cose che tu pensi, le metti giù sul foglio, e in qualche modo diventano vive e fruibili, diventano tangibili, no? Quindi una cosa che non era tangibile le metti giù. E dall'altra ha una funzione, ha un potere enorme di tipo generativo. Cioè tu quando disegni, stai creando qualcosa, non sai esattamente cosa avverrà, perché hai un sacco di interferenze che sono dovute alla tua incapacità di disegnare, al foglio, alla penna, a ciò che pensavi, ciò che volevi fare. Insomma, e quindi ha di per sé anche un valore, perché? Perché secondo me, secondo quello che penso, in qualche modo esegui un processo che il processo che vedi poi osservi in natura. Insomma, c'è un processo di crescita generativo in cui delle cose da piccole diventano grandi, da niente diventano qualcosa, e spesso come in alcuni processi generativi non sai esattamente quello che verrà fuori, no? E quindi sei in un, cioè stai usando uno strumento che anche solo per queste cose è interessante. Poi, come vedremo, ci sono degli usi proprio anche specifici, così, che lo fanno diventare, secondo me, utilissimo per appunto per chi lavora, per chi fa ricerca, per chi esplora, cioè per chi usa il pensiero e cerca dei modi per sviluppare idee, per sviluppare dei processi, insomma. Ci racconti un po' quello che è la filosofia del disegno, il tuo mestolo del disegno è che è un disegno che è stilizzato, che ragiona per metafore, che crea delle visioni e che quindi permette nei workshop che tu in questi anni hai condotto di creare alle persone, insomma anche i team di lavoro, un proprio, una sorta di vocabolario simbolico, dei simboli, quindi ognuno ci si creano delle, dove la linea grafica non ha soltanto, non è piatta più come la parola che tutti interpretiamo nello stesso modo, ma raccoglie significati e valori più complessi, diciamo che più a 360 gradi. Adesso faccio vedere un po' così delle cose qua del libro e sì, è proprio, l'idea è proprio quella di, come dicevi tu, proprio una delle cose che mi aveva mosso anche all'inizio del, proprio del progetto di Isine Brut, era dire, ma non sarà che ognuno di noi ha una sorta di linguaggio visivo proprio, nel senso che può creare un, come dicevi tu, insomma un vocabolario, un glossario visivo e in effetti un po' così è perché abbiamo dei, quelli che si possono chiamare dei tic, anche proprio fisici, per cui ci ci fanno disegnare in un modo o in un altro, abbiamo proprio dei tratti che sono nostri, un po' quando parliamo che abbiamo delle inflessioni, quando camminiamo che abbiamo delle andature, insomma, e quindi questa è una parte molto interessante. L'altro è dire il disegno, ok, se l'abbiamo tolto tutta questa cosa di artisticità, di talento, significa che lo puoi fare con qualsiasi cosa e qualsiasi cosa significa il carboncino, cioè il primo, un legno bruciato, capito, lo puoi usare, e fai un taglietto e il sangue esce come inchiostro, capito, il disegno è una cosa proprio che puoi fare in modo veramente economico, dovunque, e tra l'altro c'è anche questa idea della matita o della penna che alcuni artisti la considerano il sesto dito, la chiamano il sesto dito, perché è proprio solidale alla mano e l'inchiostro essendo liquido, cioè comunque le cose con cui si disegnano quando sono abbastanza liquide danno l'impressione proprio che sia una sorta di liquido organico, di fluido che appunto scorre, fluisce giù dalla mente, dal cuore, ti arriva nella mano e va sul foglio, quindi ha proprio un'immediatezza che ad esempio ora, la scrittura, la parola, non hanno, ci sono dei passaggi intermedi che fanno del disegno proprio uno strumento diverso proprio perché va a essere prodotto da, adesso mi sono grattato la testa perché da delle parti del cervello che sono diverse rispetto a quello della scrittura o che ne so, della lettura, quindi è anche interessante anche per quello, proprio la sua diversità. Bene, però allora noi siamo, volevamo fare questa cosa per parlare del mondo della ricerca, il mondo della ricerca però è un mondo che è molto rigoroso, ha molti schemi, soprattutto anche degli obblighi che sono grafici che devono essere mantenuti come può essere per esempio un gant o come può essere una sorta di quadro logico quando parliamo proprio dei progetti finanziati dalla rendicontazione alla fare un cronoprogramma, come il disegno può aiutare a rendere questi strumenti che sono un po' ostici perché quando si presentano progetti che possono essere di ricerca che è di sviluppo di qualsiasi tipo ti impongono di ragionare molto nel lungo periodo e di avere una impostare delle milestone quindi dei punti fissi con degli obiettivi ben precisi che poi spesso vengono comunque molto slittati in avanti non ti permettono di tracciare tutti i processi che quella striscia di colore evidenzia in un grafico molto ben preciso. Allora, hai preso il potere della... Sì, sì, scusa, ho messo qualcosa non riuscivo a... Allora, sì, il ragionamento è un po' questo, cioè quando vai a portare il disegno in un ambiente cioè il disegno appunto abbiamo parlato adesso così è uno strumento evocativo immediato è fatto in un certo modo è per forza irregolare non ha nemmeno una valenza estetica quindi effettivamente quando poi lo porti in un mondo che apparentemente è così ha bisogno di precisione di validazione apparentemente perché poi le persone che fanno ricerca scientifica sono spesso le persone più cioè anche quelle che conosco sono più folli sicuramente di un ragioniere quindi c'è tutta la parte diciamo irrazionale c'è immaginativa c'è assolutamente però quando sei dentro a un processo appunto di di ricerca scientifica ad esempio di innovazione sei a questo è da fare i conti con un sacco di cose e sono un sacco di cose visive quella cosa che appunto hai iniziato ad accennare sulla diciamo sulle cose direi di contazione di Gantt sono un perché tante volte bisogna tornare indietro andare avanti tornare avanti esatto per esempio il Gantt il Gantt innanzitutto è un adesso non so essendo usato in Excel appare come una cosa noiosa delle linee e quando è uscito cioè quando il signor Gantt l'ha inventato è stata una cosa rivoluzionaria cioè lui era famosissimo era una specie di non ringraziavano insomma aveva delle consulenze incredibili perché era stata una cosa veramente innovativa e qui questo qui ve lo faccio vedere perché sono gli esempi che Gantt fa sul suo libro in cui spiega che si trova in open source che è nell'Internet Archive adesso non mi ricordo dove comunque si trova il libro dove ci sono i Gantt fatti da lui sono fatti a mano no perché al tempo non cioè si metteva lì con le sue e vedete anche il fatto che siano fatti a mano li rende già hanno una sua valenza estetica perché c'è un il Gantt fatto da Gantt tu dici ah però a parte dice anche ma quanto tempo ci ha messo di qua di là non è l'Excel allora l'idea è anche uno strumento come il Gantt che sembra automatico appunto tecnologico il prodotto di calcoli non se non lo portiamo via dal monitor del computer non riusciamo mai a in qualche modo interagirci e farci interagire il pensiero perché sicuramente quando tu guardi un Gantt ho preso questa è una cosa più moderna un Gantt addirittura sotto con delle curve tu lo guardi sai di cosa sta parlando e sicuramente ci sono dei punti delle intersezioni che ne so tra la linea temporale e la linea come si dice delle competenze le milestones che ti fanno scattare qualcosa cioè tu pensi qualcosa quando guardi alcune cose perché è così che funziona la mente sono come dei link che ti si aprono poi in testa e non annoti niente quando tu guardi il Gantt allora una delle delle mie idee è dire ok ti stampi il Gantt e lo usi come se fosse magari te lo stampi in un attrezzo e poi e lo usi come se fosse proprio una tavolozza cioè un ora io non ho scritto insomma ho lasciato vuoti un po' il gli appunti che non ci potrebbe mettere però uno ha due funzioni in questo modo cioè scrivere sprungante perché uno lo dissacri cioè una cosa che sta antipatica la odi anche in questo modo la dissacri la smonti un pochino e ti rende e si rende meno ostica quindi meno pericolosa insomma e dall'altra riesci ad annotare lì sul momento delle cose che ti vengono e la mia idea è di farlo esplodere come se fosse un po' io lo vedo un po' in 3D cioè che ci sono alcune alcune parti che escono in diagonale ed altre che vanno su ed è un giochino che puoi fare con i pennarelli con gli evidenziatori per dire tendiamo ad usare gli evidenziatori per evidenziare dei testi che esistono già ma l'evidenziatore è un pennarello dal punto di vista tecnologico molto particolare che è un pochino più leggero come colore insomma quindi non è così coprente per cui tu lo puoi usare anche prima per fare delle macchie di colore e poi scriverci sopra con il nero io questo ad esempio l'ho fatto il Gant lo sono trasferito sull'iPad e quindi con un tablet e una penna ci puoi scrivere sopra annotare tutto quello che vuoi ecco questo è un modo poi è chiaro che il Gant cambia perché succedono delle cose nuove cambia però tu ogni volta lo puoi prendere e questa cosa qui che fa il disegno quindi anche la scrittura perché poi diventa tutto un sistema in cui disegno e scrittura vanno d'accordo è importante perché ti permette di ragionare di ragionare disegnando e questo secondo me è una cosa che ha una funzione tutta sua ha un potere tutto suo e che puoi fare solo se disegni non se guardi il Gant al monitor ti rende in questo modo è un po' come di distacrare questi strumenti che creano un po' di rigore un po' di ansa da prestazione quando quando li crei e quando dici ok ho queste scadenze ho queste questa tabella di marcia e tanto non diventa un vero e proprio strumento di lavoro diventa quasi più un obbligo da prestazione o qualcosa che comunque devi andare a dire dobbiamo sdizzare le scadenze devono essere spostate perché non ci riusciamo abbiamo valutato male esatto e tante volte non ci perdiamo anche lì l'occasione di ragionare su quello che in realtà poi è andato storto che è un errore di valutazione iniziale per poi migliorare quel processo di pianificazione e organizzazione anche del lavoro che potrebbe aiutarci poi successivamente ma devi per dire uno dovrebbe considerare intanto che come gli esseri umani sono dei non sono in grado di prevedere quasi niente nel senso non riusciamo a capire cosa succederà un secondo dopo quasi cioè siamo veramente negati quindi il fatto di avere dei sistemi che cercano di prevedere ciò che succederà si deve mettere l'anima in pace che sicuramente c'è sempre qualcosa da rivedere non è che il domani del domani c'è certezza devi sempre tornare indietro quindi l'idea è che questi strumenti possono essere modificati addirittura elaborati o dissacrati secondo me è importante infatti guarda c'è una domanda a cui rispondo subito di Giuliano Zanchetta che mi chiede lo presenterebbe anche all'interno di un progetto così dissacrato allora magari se sei a fine progetto davanti a un pubblico forse no però all'interno del gruppo di lavoro io sì cioè assolutamente e per due motivi uno per tutti questi motivi che abbiamo detto l'altro è perché chi lo facesse avrebbe un potere enorme su chi ascolta perché ad esempio se queste cose uno le fa dal vivo quindi si mette lì con l'iPad magari collegato che ne so a un monitor a un proiettore no e lo facesse lì per lì spiegando quello che fa hai un proprio un potere di coinvolgimento di engagement è enorme perché le persone vogliono vedere quello che fai è il motivo per cui che ne so esistono le lavagne a scuola cioè quando un professore fa una dimostrazione a scuola nella lavagna tu lo guardi perché non sai la lavagna è nera arriva il gesso bianco e ti fa e rivela qualcosa e tutti i grandi scienziati o comunque grandi anche adesso si direbbe speaker insomma grandi persone che hanno dimostrato quello che pensavano hanno usato le lavagne ci sono per dire usato ovviamente in un modo non scientifico si esce dalla scienza in un terreno particolare però per dire Rudolf Steiner usava le lavagne in un modo incredibile che poi venivano fuori dalle specie di opere tutte coloratissime non si capiva niente ci sono allora c'è qualcuno che ha alzato la mano ah ecco vedi già sulla prima cosa che abbiamo fatto vedere bene bene sì perché poi dopo parlo dei flowchart guarda mi sono preparato anche se può scriverci la domanda di interno nella chat allora io mi ne approfitto mi aggrego questa domanda sulla presentazione perché sembra che le presentazioni e i progetti devono essere tutte belle perfette infatti guarda adesso ho preso un flowchart di classico di far vedere il processo e quando abbiamo parlato di come organizzare anche questo momento di presentazione abbiamo sempre identificato questi due momenti di lavoro cioè il disegno come uno strumento che possa facilitare la comunicazione interna del team di lavoro quindi si creano simboli significati valori anche e visioni comuni e collettive che spesso noi diamo per scontate penso pensiamo tutti quanti di avere la stessa visione e spesso non lo è perché le parole in questo non ci aiutano il disegno ci semplifica in questo modo una comunione di intenti di valori di missione su quello che è il progetto su quello che è l'attività lavorativa dall'altro una volta che con il disegno abbiamo creato questo vocabolario di simboli e significati diventa che più semplice la comunicazione esterna a quella che è il gruppo di lavoro il gruppo di ricerca quindi si creano delle 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 connessioni e dei significati dei linguaggi che riescono a mettere insieme in comunicazioni mondi che sono diverse che fanno spesso hanno difficoltà a comprendersi quindi era anche questa la la potenza di questa di questo metodo di di questo strumento sì perché la cosa che ho sempre pensato ragionando tra l'altro ci ho pensato ancora di più durante il lockdown che chi fa ricerca che faccia ricerca artistica filosofica scientifica mette in atto un processo che tende a chiuderti cioè si chiude su se stesso nel senso che è una sorta di spirale che va verso l'interno va verso il centro e tu vai in qualche modo vai dentro di te vai verso il centro della terra cioè è un viaggio proprio sia interiore ma proprio interno chiuso rispetto all'esterno poi a un certo punto e in questo viaggio ovviamente ci sei tu c'è il tuo team poi a un certo punto devi uscire fuori quindi devi in qualche modo questa spirale si che la sera tutta avvolta in un certo modo si risvolge e esce fuori e devi riportarlo fuori ovviamente c'è un momento di shock perché devi uscire fuori ed è quello che capita con la comunicazione spesso perché tutta la parte di ricerca che spesso è generativa cioè quando uno fa ricerca ci sono dei momenti in cui ci sono un sacco di idee e quei momenti generano non solo idee intese come pensieri ma anche spesso come cose figurali cioè come cose immaginative e andrebbero colte tenute lì perché tutto ciò che nasce dal processo di ricerca sono utili poi per dopo anche perché quando tu puoi fare comunicazione chiami che ne so l'agenzia se hai il budget chiami l'agenzia di comunicazione o qualcuno che ti faccia che ne so le infografiche anche solo delle immagini che possono accompagnare anche solo un articolo e glielo vai a spiegare cioè questo qui è uno che fa immagini quindi probabilmente non capisce oppure anche se alle volte capita che l'interfaccia sia magari qualcuno che è laureato nella tua stessa che ne so disciplina e quindi riesce a parlare un po' la sua la sua lingua parla un po' la tua lingua però rischia di non capirti perché non era dentro il processo quindi tu hai anche delle idee visive che alle volte sono proprio legate al processo che sono dei preziosissime perché lo spiegherebbero in un modo incredibile immediato e il disegno interviene proprio come una sorta di annotatore no? di cioè dico ok disegniamo alcune delle idee che ho cioè un generatore non solo di ulteriori idee ma anche proprio un generatore di appunti di di frammenti di visioni che uno ha infatti quando parlavamo di come anche preparare questo questo incontro c'era questa idea proprio delle fasi in cui una fase è questa qua del del mettere guardare il processo quindi il Gant poi adesso ti faccio vedere che c'era il discorso sul flowchart ad esempio che il flowchart insomma comunque tutti quei diagrammi che si usano per far vedere il flusso del progetto no? e come dicevi tu poi spesso vengono fatti alla fine sembra che sia andato tutto bene tutte le parti ah dai ora questo qui è preso solo perché mi piaceva graficamente e per dire se invece ognuno di parte del processo disegnasse il processo dall'inizio alla fine alla consegna con tutto il successo li potremmo per dire confrontare a che punto siamo come sono andati certi pezzi no? ho fatto degli esempi proprio disegnati male cioè disegnati in un modo semplice questi sono molto come rappresentazioni perché c'è una linea del tempo e poi semplicemente c'è quello che succede e c'è quello che succede ad ognuno dei partecipanti del gruppo e questo è il processo cioè il processo è questo e quindi anche quando uno fa poi alla fine fa un flowchart un'idea ovviamente con senza testi tutto uno va a fare un flowchart cavolo sono fasi che sono durate di più che sono state più faticose alcune che sono state nelle fasi morte nel senso che non hanno portato a nessuna parte quindi c'è tutto un proprio procedere organico e alle volte anche caotico del processo che secondo me uno dovrebbe in qualche modo descriverlo raccontarlo perché è così che è successo e soprattutto sarebbe anche per valutare il progetto perché sai qual è la fase che è stata ostica per ti hai ben evidenziato che ci sono state le difficoltà e questa con il disegno puoi fare perché il disegno ha il vantaggio che è molto evocativo è in qualche modo misurabile rispetto alla grafica e non stai e non aggiusti troppo quando aggiusti troppo le cose diventano piatte diventa la foto patinata della rivista di moda perdi le imperfezioni tendi a limare e limare e poi non c'è poco ti dice sì in questo modo ecco scusa questo è il confronto da non me ne vogliano tutti quelli i post sono una cosa geniale tutto servono tantissimo però poi qui c'è anche dei processi di facilitazione non so da dove l'ho preso ci sono dei disegni quindi c'è qualcosa però è tutta una rappresentazione una griglia non esce fuori niente cioè da qui non esce fuori niente sono tutte parole tu te le devi ricordare tutte non c'è un anche se chiave è troppa roba che non crea nessun collegamento emozionale non so come dire quindi sì questa cosa della rappresentazione del processo che diventa un processo parlante perché poi ogni ogni settore può descrivere in modo può rappresentare semplicemente con una linea questo per quello che lo chiami disegno brutto perché è proprio a servizio di quello che succede nella nostra sì non c'è nessuna magnetica cioè lo puoi fare che poi a me piacciono molto hanno esatto infatti quello è il suo potere al potere ti permettono anche di rivedere le fasi all'interno dell'unico processo e anche di andare a identificare meglio gli indicatori dell'impatto del processo stesso questo soprattutto anche dei progetti di ricerca scientifica anche nei progetti di ricerca anche sociale è importante riuscire a indicare il set di indicatori più aderente agli obiettivi di progetto sicuramente avere una cosa uno strumento grafico che permette che facilita in questo caso una facilitazione di di lavoro perché perché la fai tu cioè le persone stesse capito non c'è tutta questa mediazione sto filtro che poi lo fa alla fine significo o chi per lui insomma che a un certo punto mette tutto in bella quello del metterlo in bella sempre cioè puoi sempre trovare qualcuno che te lo metta in bella il problema è riuscire a dargli le informazioni le informazioni corrette se vuoi passiamo al perché vedo che il tema è abbastanza il tempo a tiranno sì io però non volevo perdere l'occasione di farci vedere di raccontarci che sono molto esemplificativo il disegno del DNA e della tua esperienza sì infatti del DNA i numeri e DNA disegnato ora la prendo un po' larga questo qui Leonardo però l'idea ok queste qui quelle che abbiamo fatto vedere adesso sono cioè rappresentazioni del messo di ricerca però poi la ricerca in sé è osservazione pensiero e quindi nascono delle immagini visive allora ho preso degli esempi di che si può considerare ricerca scientifica tutti gli effetti d'antano diciamo un po' vecchia questi sono gli studi sui fluidi sui momenti dell'acqua di Leonardo tra l'altro non è un disegno realistico ma si vede proprio che lui cerca di capire di ragionare disegnando proprio di capire verso il disegno cosa succede questi sono delle tavole di Linneo adesso non ricordo poi se le aveva fatte lui mi sembra le avesse commissionate a un artista comunque questa è una natura lui ha queste queste tavole queste sono rappresentazioni adesso non mi ricordo esattamente lo studio però sono sempre siamo mi sembra all'ottocento sono rappresentazioni di onde non mi ricordo studi sull'elettromagnetismo questi sono siamo ancora per il 100 siamo sempre nell'ottocento è tutto un libro degli studi sulle palme le faccio vedere perché sono disegni semplici comunque anche se molto curati e tutto hanno una potenza loro cioè che già questa è comunicazione nel senso con l'occhio del grafico se vuoi se mi facessero se i ricercatori mi presentassero una cosa per un sacco di materiale ed è interessante come tutto questo mondo che si muoveva di fotografia in un modo analogico quindi dovendo ha creato delle cose che adesso vengono considerate di divulgazione scientifica o comunque di ricerca scientifica adesso vengono considerate opere d'arte tanto che questo è Kandinsky Kandinsky e altri artisti come Klee e altri dei primi del novecento restano colpiti da tutte le ricerche della microbiologia tutte le scoperte del micromondo e loro in pittura quindi c'è proprio un c'è chiaramente Kandinsky Klee gli artisti hanno delle visioni che sono i batteri che hanno visto in qualche erofia microscopica al microscopio stesso questo per dire la foto adesso arriva dalle foto microscopiche che possono fotografare veramente delle cose incredibili questa è una goccia d'acqua con tutte le cose che ci sono dentro ed è un mondo veramente interessantissimo quindi siamo immersi tra l'altro in un mondo di immagini che è potente faccio l'esempio del DNA proprio per far capire come ho preso proprio come cosa paradigmatica per far capire come sia un esempio di perfetta comunicazione del progetto attraverso il disegno e trasformato una semplice intuizione in qualcosa di limite del mitologico il DNA diventa un simbolo universale insomma potentissimo e voglio subito farvi vedere che c'è il DNA io lo faccio disegnare tutto lo metto dentro nei miei corsi una sorta di ragionamentiato perché quando lo guardate c'è una parte del vostro pensiero visivo che associa ad altre cose ovviamente il primo è il simbolo dell'infinito e poi io lo metto faccio fare una progressione ad esempio nel doppio infinito in questi che era un simbolo amato da Goethe e usato anche dai Celti insomma nelle varie decorazioni il terzo paradiso di pistoletto che è un'espansione di nito e il DNA che sembra in qualche modo richiama molto visivamente l'infinito questa è la è la foto che fa la da cui c'è stata la storia poi Franklin si chiama la ricercatrice se non sbaglio che fa questa vera bravissima a fare queste foto microscopiche la foto 51 e Watson di quelli che poi firmerà l'articolo quello famosissimo sul che poi gli dà il Nobel gli fa ricevere il Nobel scrive proprio tra di interviste di cose lui dice che come vedi la foto rimasi fulminato e senti che il cuore si era messo forte ora io e Elisa che non siamo scienziati se guardiamo questa foto il cuore atte cioè non la capiamo capito e dico Watson perché ti batteva questa foto a me non mi batte cioè io non ci vedo la tripla ellica del DNA quindi una cosa troppo tecnica troppo specifica io non riesco a vederci niente se loro fossero andati avanti per cercare di spiegare la loro idea con questa foto non avrebbero ottenuto i risultati che avevano quindi ho cercato un pochino c'è molto materiale iconografico su questa storia queste sono lettere che mi sembra sempre Watson manda ad un altro ricercatore in cui cerca di spiegare fa dei disegni sulle composizioni sulle vedete su carta intestata cerca di mettere insieme adesso non mi ricordo se non le proteine le cose insomma cerca di disegnare e a un certo punto questo l'ho trovato in un sito di aste tra l'altro se lo vuoi costa 488 dollari ed è un appunto del fratto del taccuino in cui evidentemente ad un certo punto ha questa intuizione questa idea dell'elica è potentissima perché a parte che spiega e che ora tezza che sia proprio così proprio visivamente non è che ce l'abbiamo perché non lo possiamo vedere troppo piccolo cioè quello che vediamo è tutto una sorta di rappresentazione della rappresentazione ma questa questa idea cioè la rappresentazione dell'elica e come lui la disegna è molto incredibile perché io mi sono sempre immaginato per arrivare a questa rappresentazione qua ora il DNA alla diciamo c'è un gomitolo una roba attorrotolata no c'è il quello che viene chiamato se non sbaglio il superavvolino del DNA cioè che è una cosa lunga un metro che riesce a stare in uno spazio piccolissimo però inimmaginabile tra l'altro riesce a ridursi di volume con questo superavvolgimento riesce a indirizzare il nucleo che se no sarebbe più sarebbe più piccolo diciamo dello spazio che gli serve quindi fa tutto un gioco di spazi incredibile e quindi significa che Watson quando ha pensato il DNA se l'ha immaginato è probabilmente a un certo punto come si fa con un gomitolo l'ha preso e nella sua mente ha iniziato a srotolarlo a un certo punto riuscendo a fissare bene con l'immaginazione quella che era la sua idea del DNA di questa sorta di scala pioli perché poi è estesa è una cosa del genere ha colto un momento esatto di questo svolgimento e ha detto sarebbe così cioè se io lo inizio a srotolare è così lo rappresenta e questa è un'intuizione ovviamente vista visivo incredibile però si ritrova con questo disegnino dice ma come si fa ad andare possiamo pubblicare sono nel 52 53 l'articolo abbiamo pubblicato nel 53 e non si può andare sulle riviste con questa cosa e qui la moglie dell'altro ricercatore adesso mi ricordo che si chiamava Mrs. Creek ecco che è la moglie dell'altro ricercatore che stava lavorando uno dei ricercatori che stava lavorando con Watson era molto brava a disegnare per cui gli spiegano la cosa e lei inizia a disegnare questi bozzetti che poi porteranno al disegno che viene pubblicato dentro l'articolo ed è comunque un disegno sempre semplificato a quella che è la struttura che è molto più complessa del DNA però iconico cioè questa cosa qui diventa iconica e tutti la conosciamo cioè ha avuto questo disegnino ha avuto un potere incredibile nonostante il DNA poi ora possiamo cercare ma tutto è una roba molto più complicata molto più arzigogolata cioè è veramente una sorta di scarabocchio l'origine della vita cioè l'origine della vita c'è uno scarabocchio che è il DNA che è tutta questa roba intricatissima e nel 2012 c'è questa notizia che viene pubblicata dalla Tlac c'è questo team di Genova che dipartimento che riesce a fotografare il DNA crea una tecnica tu risiamo come prima guardi questo DNA e la maggior parte delle persone dicono ah non mi smuove niente cioè non riesco non mi dà niente questa foto però questo ovviamente è frutto di ricerche di una in qualche modo di un'invenzione scientifica incredibile no quando vai a comunicarla questa non riesce non ti serve a niente e le parole non bastano è molto evocativa questa foto per i ricercatori cioè nel senso i ricercatori che comunica con altri ricercatori e li fa battere il cuore perché dicono ce l'abbiamo fatta allora il cuore batte tantissimo quando però ci troviamo a dover raccontare e a dover spiegare che cosa ha prodotto la nostra ricerca quali sono state anche il percorso nel processo che ci ha portato a ottenere determinati risultati c'è la corsa alla semplificazione e all'infografica perché è tutto scritto poi a un certo punto si dice diamo questo documento a un'agenzia grafica e facciamola diventare un'infografica se hai il budget tra l'altro per farlo perché non tutti ce l'hanno e qui c'è c'è l'esempio no cioè Watson cosa fa si crea da solo il disegnino cioè si disegna da solo percare come può capitare a un sacco di persone c'ho il cugino che me lo può far diventare c'è la moglie no del cosa questa fortuna lì tra fuori questa rappresentazione l'ha avuta ma non riusciva cioè già era stato in qualche modo geniale bravo a raccarla così però ci voleva qualcuno che riuscisse a spiegarla meglio graficamente no e per dire ho cercato allora altri articoli sul DNA l'ho trovato uno su questo Cell Excel Reports che ho visto una rivista ora per gli scienziati quelli che fanno il cerchio sono andata a vedere il il ranking ora per carità non voglio entrare in questa disquisizione però ho guardato ho detto ma non sarà una rivistaccia no è una cosa a trecentesimo post a livello mondiale non mi ricordo un po' più in là trecentesimo quindi non è cazzone e tutto quindi non è una rivista proprio da buttare anzi e c'è quest'arte di sei pagine pieno di immagini e sono molti sono come dici tu grafici sono foto comunque foto insomma delle spettrografie ora non so cosa sono esattamente grafici però tutta questa materia che è proprio materia tecnica no sono rappresentazioni scientifiche a me sempre con l'occhio del grafico mi dicono già un sacco di cose vedessi queste cose probabilmente vedrei degli schemi ci vedrei un sacco di cioè è probabile che dentro tutte queste rappresentazioni un po' come era successo prima con il DNA ci siano delle cose che estrapolate possono cambiare proprio la comunicazione del progetto e questo è importante questo ovviamente dalla quantità di immagini immagino penso che sia uno studio fatto con un discreto budget o comunque con della tecnologia fatta apposta per produrre immagini però questa qui quando va a fare comunicazione appunto a vendere l'idea del progetto azienda a divulgarla tutto è ancora troppo complicata può essere bella vedersi come può essere un bel tappeto piano però non ci capisco niente io e in questo caso nel metodo che ci racconti tu vediamo già una cosa che è molto attuale che dopo si chiamano con quello riuscire a rappresentare graficamente tutto il il fatto che sia il team di ricerca che si nota in qualche modo di questo strumento che è il disegno come un metodo guida del processo della ricerca aiuta aiuta sia la comunicazione e la gestione del processo interno ma anche la comunicazione del processo ad un mondo esterno un mondo che può essere sia fatto di ricercatori che è fatto di persone interessate di persone che lavorano nel settore fino ad arrivare a quella che è una cittadinanza più ampia e ti permette di farlo anche senza stravolgere il messaggio senza stravolgere tutto quello che è stato il processo perché in qualche modo anche se non si hanno grandi budget non si hanno grandi competenze i ricercatoristi si sono in grado di dare anche a chi si occupa qualche abilità grafica che deve in qualche modo impaginare creare un prodotto grafico degli strumenti in grado di raccontare il processo e gli risultati della ricerca in un modo molto più coerente con quanto è stato il lavoro del team di ricerca stesso quindi c'è una sorta di riconoscimento reciproco del diciamo anche solo della semplice brochure che racconta quanto è stato fatto il ricercatore stesso e si riconosce in quello che è poi è stato il prodotto grafico che è stato creato quindi non è più una cosa obbligatoria che viene fatta ma si mettono insieme questi due aspetti hanno riacquisiscono importanza nella loro relazione cioè la comunicazione non è una cosa che deve essere fatta per forza ma ha un suo valore un suo significato beh sì perché così la pari come cosa finale no invece se tu produci perché poi la comunicazione alla fine è sempre come improvvisamente arrivano le immagini c'è bisogno della comunicazione visiva durante il processo di ricerca di studio non si è mai interessato ma scritto delle parole e poi improvvisamente ti rendi conto che il mondo viaggia molto più velocemente con le immagini quindi sei costretto a produrre immagini e ti ritrovi spiazzato perché al massimo hai prodotto delle parole ma soprattutto hai prodotto un sacco di pennelli che non sai spiegare cioè che non riesci a spiegare se non con termini tecnici quindi la cosa classica che ne so che io ho visto anche per la facilitazione grafica così dei pitch dei ricercatori è che loro presentano le loro slide o più o meno in quel quarto d'ora presentano le loro slide le slide ma non per un profano cioè anche per uno che è dentro però non è di progetto non dicono niente perché tra l'altro sono basate sempre su un'idea di storytelling è piccolosissimo tra l'altro che va contro una certa idea di disegno perché c'è un inizio e una fine il massimo dell'ascolto ce l'hai all'inizio e alla fine per riuscire a tenere viva l'attenzione delle persone devi essere bravo cioè lo storytelling deve essere costruito bene perché se no hai dei cali e poi sono ah finito aspetta la messa è finita andate in pace no il bambino è tutto contento finalmente e succede la stessa cosa quindi hai massima attenzione alla prima slide e all'ultima tutto il racconto che c'è nel mezzo alle volte non è interessante cioè interessante la conclusione sono interessanti l'inizio quindi come da cosa si è partito e tutta la conclusione e tutto quello che c'è nel mezzo in realtà tu lo vivi e genera come dicevamo all'inizio genera un sacco di pensieri e di immagini immagini intese ora non c'è bisogno di pensare all'immagine come una figura ma una cosa un pochino più complessa dal punto di vista appunto immaginativo no cioè sono un insieme di percezioni di sensazioni pensieri come dicevo quella è tutto un un sono delle cose preziose che vengono che vanno annotate tenute io mi sono immaginato i modi anche proprio per come ho lavorato io con con chi fa ricerca con l'ambito scientifico e tutto cioè due modi in cui si possono usare immagini all'interno di un progetto uno è una cosa che sia ispirante e motivante cioè ci sono delle immagini delle rappresentazioni che se tu li stampassi su un poster o io là dietro e te le vedi tutti i giorni in laboratorio ti guidano se un'immagine diventa un'immagine guida ti inizia a trascinare con sé e rappresenta spesso la visione cioè la visione intendi proprio il futuro cioè verso dove sto andando no qual è la cosa che mi muove cioè che muove me il progetto ed è importante e non è detto che sia il risultato inteso proprio come che ne so la scoperta del bosone di X può essere un'idea che rappresentate visivamente e che potete tutti perché la cosa bella è quando queste cose vengono fuori in modo partecipato condiviso cioè il gruppo che genera a un certo punto un'idea e un'immagine e diventano potentissime le persone in un progetto ad esempio esaltarsi perché li avevo disegnato era un progetto insomma c'era una ricerca biomedicale sul cuore perché sono esaltati perché c'era un cuore nato dentro una foresta una cosa veramente semplice però gli dava l'idea che quello fosse che volevano arrivare loro cioè scoprire c'era tutto il senso di avventura di scoperta in un'immagine ho detto cavolo proprio pescazzo bassissimo pescato nella banalità però per loro te lo puoi trovare anche in un come fanno che ne so gli stilisti cose con le mood board cioè di raccogliere tutte le immagini anche o sul computer oppure riviste cioè foto disegni che in qualche modo in modo associativo si legano al progetto e l'altro è generare generare quindi significa anche creare che ne so un linguaggio e per farlo uno dovrebbe stare sempre attento alle metafore e ai concetti chiave che guidano il progetto il progetto ha sempre una metafora tra l'altro sono quelli che servono per fare il titolo quando vai a fare il titolo dell'articolo cioè quando vai a dare un nome a questo è importante anche anche quello perché il titolo è importantissimo come tutte le cose e il titolo se vuoi viene il procedimento con cui arrivi che ne so al titolo è un procedimento o metaforico o simbolico che è simile a quello che ti può far creare delle immagini potenti che rappresentino l'oggetto la metafora ovviamente è una cosa se vuoi un po' più simile perché è un po' come lo scrittore che crea una metafora e tu inizi a immaginartela il pensiero simbolico è un vero nel senso che arrivare a creare dei simboli o delle immagini che possano raccontare un progetto può essere un processo un pochino più complicato però uno ha dei concetti chiave ogni concetto chiave può essere trasformato in immagini anche proprio come disegni semplici cioè uno dei concetti chiave è la cura del cuore diciamo quindi c'è anche legato il benessere c'è legato che ne so le nanotecnologie c'è legato il ognuno di questi concetti chiave può dare con sé delle sono dei simboli in qualche modo e quindi li puoi tramutare in immagini se tu riesci a farti un apparato anche solo con queste due con queste due idee cioè immagine guida metafori e simboli crei già un materiale che quando vai a fine progetto a cercare di comunicarlo quindi con un'agenzia di comunicazione o con chi è specializzato in queste cose hai già tantissimo cioè un brief diciamo un materiale su cui lavorare incredibile e anche le idee più chiare mi sono ci sono riusciti sì sì diciamo che tutto questo poi insomma tu fai anche dei workshop in cui guidi anche piccoli gruppi nell'attività pratica di come poter utilizzare creare queste rappresentazioni le proprie visioni guarda adesso si adesso ora è giusto per far vedere che c'è nel libro a un certo punto c'è il sui lavori di gruppo io ho visto che ci sono delle metafore che funzionano tantissimo per dire usare la metafora del fiume in cui il fiume è il progetto gli affluenti sono le persone che ci partecipano e il territorio in cui il fiume inizia a diventato diventa il il progetto stesso cioè il processo no e se le persone riescono ad entrare nella metafora e quindi iniziano a immaginarla raccontano un sacco di cose su quel su quel progetto quindi tu vai a vedere il fiume la classica ci sono persone che disegnano questo fiume visto da molto vicino a un fiume che non è esturario né foce e altri invece che rappresentano tutto vai a chiedere a quelli che non hanno presentato esturario e foce mi è capitato più volte ma perché non ci hai fatto l'esturario e la foce non ci ho pensato ho detto ma senti il progetto è finito no 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 siamo ancora nel progetto quindi non vedi la fine eh e altri invece che o la visione quindi vedono la fine quindi prevedono come sarà oppure entrando nella metafora iniziano a creare all'interno del territorio delle parti delle dighe dei laghi e significativi e ti dicono eh sono dentro praticamente sono dentro la metafora e quindi costruiscono il territorio in questo modo e che ne so la diga è il partner che gli sta bloccando il flusso del progetto quello e questo è interessante perché ti permette di lavorare in modo laterale ovviamente sul sul progetto sulle cose perché le vedi in modo diverso non le riapplichi ci riragioni in modo diverso ci sta che ti vengono anche in mente idee diverse e dalla possibilità che ne so a chi guida il gruppo o che agli altri di discutere su alcune cose che magari non non vengono fuori vengono fuori e la cosa bella secondo me del disegno è che è molto aperto cioè disegnare è un certo è molto ambiguo e questo è un vantaggio perché si apre a più interpretazioni il che significa per riuscire a trovare una soluzione bisogna ragionarci un sacco discutere e questo è bello nessuno ha la soluzione di queste cose e quindi genera discussione idee genera un qualcosa che secondo me è positivo perché ti porta proprio su un altro piano sei fuori da come ragioni solitamente va bene Alessandro siamo già fuori tempo massimo perché infatti facciamo fare delle domande di raccontare di spiegare un po' quello che è il tuo approccio io vi ringrazio a tutti per essere rimasti con noi fino a quest'ora se ci sono delle domande è il momento giusto di farlo sì sì assolutamente comunque ne approfitteremo anche per mandarvi qualche domanda suggerimento perché insomma vorremmo portare avanti questo discorso della visual science al servizio del mondo della ricerca e quindi siamo solo all'inizio di questo percorso sì ci sono appunto domande curiosità fatele pure siamo siamo qui anche c'è anche per questo muori di cose e giusto per mentre se qualcuno prepara le domande che spero ci siano insomma voglio far vedere velocemente il ragionamento che avevo fatto sulla comunicazione della scienza nel coronavirus sul fatto che sia un rapporto tra questa che è la foto del 75 del coronavirus e la rappresentazione che viene fatta dall'istituto di ricerca il CDC che è il Center for Disease come si chiama Center for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti che creano questa immagine che sembra una mochette sembra ti viene voglia di un cuscino non lo so in realtà è molto più la visione è molto più incasinata allora mi ha fatto venire in mente il paragone che c'è fra il nosferato di Murnau che fa paura in bianco e nero è proprio un po' come la foto il nosferato di Herzog che è a colori non è proprio patinato però insomma è gore come si dice ma che altro e tutto quindi fa un po' più schifo però non c'ha quell'inquietudine quel mistero che ha appunto la foto del microscopio e qua c'è lo stesso ragionamento che poi porta anche alla scazione perché c'è bisogno e alle variazioni perché poi diventa il coronavirus diventa uno slavasi una cosa che è molto diversa da come è lui nella realtà c'è poi una comunicazione che va verso c'è di tutto insomma il coronavirus diventa veramente questo il libro di Alessandro è questo grazie da proprio insomma dare anche le slide esatto allora quando mi hanno già richiesto alcuni di voi che non riuscivano a partecipare a tutta la durata del di questo talk sarà possibile poi rivedere la registrazione il talk è registrato abbiamo fatto la diretta su facebook potete seguire la pagina del laboratorio Aperto Ravenna quindi rimarrà visibile lì e vi manderemo il link anche per vederlo potrete vederlo in modo autonomo sui vostri dispositivi io ringrazio tantissimo Alessandro Bonaccorsi per essere stato qui con noi e averci raccontato il suo metodo come sia utile riprendere a disegnare quanto sia importante farlo male grazie ancora a tutti voi buona serata grazie a tutti grazie a Fondazione Nia per questa idea per aver sopportato questa idea grazie Elisa grazie a te ciao ciao grazie a tutti